Ciao a tutti! Come avrete notato, oggi non è sabato. Ho scelto questo giorno semplicemente perché il video di oggi è un po' diverso dallo solito. Infatti non parlerò di un argomento di fisica specifico, ma parlerò in generale dello studio della fisica o ancora più in generale dello studio universitario di materie scientifiche, sostanzialmente. Ma da un punto di vista geografico parliamo naturalmente di una zona che conosciamo bene, e soprattutto in questi giorni parliamo della striscia di Gaza. Che senso ha pubblicare un video sullo studio universitario all'interno della striscia di Gaza, soprattutto in un periodo come questo? Beh, lascio a voi decidere il senso che volete dare a questo mio video. Di fatto io proprio caratterialmente ho questa tendenza che mi porta a fermarmi di fronte a situazioni in cui mi vengono comunicate notizie di conflitti o comunque notizie che trasportano con loro una forte emotività e approfondire vari aspetti da un punto di vista un po' più razionale e un po' più freddo e analitico. In questo caso parliamo soprattutto di aspetti umani che riguardano giovani studenti. In altre parole, oggi vorrei condividere con voi una realtà che va oltre ai titoli di cronaca e i conflitti che spesso dominano le notizie internazionali, soprattutto in questi giorni. In un mondo che sembra sempre più diviso, è importante ricordare che ci sono persone comuni, studenti e aspiranti scienziati che vivono in luoghi di conflitto, proprio come quello della striscia di Gaza. E queste persone comunque stanno lottando per perseguire i propri sogni accademici. In questo breve video vorrei portarvi all'interno di questa realtà che spesso è sconosciuta e che io stesso non conoscevo a fondo, cioè la realtà universitaria di Gaza City in questo caso. Sto parlando cioè della realtà universitaria all'interno della striscia di Gaza ed essendo questo un canale in cui parliamo di fisica, vorrei spendere alcune parole anche per quanto riguarda gli studenti di fisica o che comunque seguono corsi di fisica all'interno di corsi di laurea come può essere quello di ingegneria, perché si tratta di corsi di laurea che sono presenti all'interno della striscia di Gaza. Una cosa che mi stupisce sempre quando all'interno dei telegiornali ad esempio sentiamo parlare di conflitti come questo è il fatto che noi nel nostro cervello creiamo uno schema molto semplice. Ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. I cattivi sono tutti uguali fra di loro, sono tutti cattivi e i buoni sono tutti buoni. Solo che non è inutile che vi dica io che questo è un modellino della realtà molto basilare e fondamentalmente errato perché non tiene conto di tutte le sfumature interne che sono presenti in questi due gruppi. Oggi comunque non voglio assolutamente parlare di politica, non è mio compito e tra l'altro sarei fortemente a disagio. Questo video non ha alcun obiettivo politico, non voglio influenzare le vostre idee, anche perché qui stiamo parlando di un conflitto. Nei conflitti la prima cosa che muore è proprio la verità e noi qui cerchiamo di parlare di fatti scientifici. La mia speranza è semplicemente che questo video possa contribuire a far emergere la dimensione umana all'interno di questo conflitto e che ci ricordi che, nonostante le difficoltà, l'istruzione e la passione per la conoscenza possono superare le barriere e unire le persone. Questo è un fatto cruciale. Abbiamo infatti sentito parlare recentemente proprio di bombardamenti dell'Università di Gaza in quanto si tratterebbe di un centro di addestramento dei terroristi di Hamas e non sto negando che effettivamente possa essere anche così, cioè che possa anche essere che questo gruppo terroristico, che chiaramente è insediato, ha posto le sue radici, quasi letteralmente, visto che parliamo di tunnel sotterranei in tutta la striscia di Gaza all'interno di questo territorio, possa avere anche utilizzato gli edifici dell'Università per i propri scopi. Ma oggi parliamo dell'aspetto universitario di questi edifici. E al di là dell'uso distorto che poi gruppi di criminali possono fare di un edificio, quell'edificio è nato comunque per promuovere l'istruzione e la razionalità. Poi sulla razionalità magari facciamo un discorso in conclusione, visto che c'è sempre questo mix tra razionalità e religione, che noi forse oggi non riusciamo a comprendere a fondo, però di fatto ci basterebbe tornare indietro di meno di un secolo, per accorgerci che anche in tutte le scuole e università italiane si faceva così fino a qualche decennio fa. Però su questo ritorniamo dopo. La cosa che vorrei che fosse chiara è che in un mondo complesso e spesso diviso, l'istruzione superiore, quindi parliamo proprio di ambito universitario, e la cultura scientifica svolgono un ruolo cruciale nella promozione della tolleranza, dell'apertura mentale e nella prevenzione del fondamentalismo. Questo è un altro fatto importante. Cioè, vorrei che fosse chiaro che in una situazione in cui c'è una forte voglia di rivalsa, ricordiamoci infatti che chi vive nella striscia di Gaza fin dalla nascita si sente in un certo senso oppresso per vari motivi con cui potreste essere più o meno d'accordo, ma di fatto le persone sentono questo bisogno di rivalsa, di mostrare al mondo quanto valgano, hanno una forte resilienza. Ecco, tutta questa energia delle persone può sfociare e può essere incanalata in vari modi. Possiamo arrivare alla violenza vera e propria, e questo è il grande problema, ma tutta questa energia e questa voglia di rivalsa può essere anche incanalata correttamente all'interno di un percorso che porti le persone proprio a far emergere la propria voce attraverso la cultura e lo studio, e l'università serve proprio per questo. Ci sono diverse testimonianze di persone di Gaza, Gaza City o comunque della striscia di Gaza in generale, che sono andate avanti con lo studio, magari sono andate a studiare poi fuori dalla striscia di Gaza, ad esempio al Cairo, e sono riuscite poi finalmente a far sentire la propria voce. Vi invito a leggere un'intervista che trovate qua in descrizione a una ragazza nata sulla striscia di Gaza che però poi è riuscita quasi miracolosamente a ottenere il permesso di andare a studiare all'estero, in particolare in Turchia, e da queste interviste emerge chiaramente questa voglia di rivalsa che vive nella striscia di Gaza e che continua a essere alimentata. Ritornando comunque all'argomento di oggi, parliamo quindi di striscia di Gaza, 1.800.000 abitanti, fra cui tantissimi giovani. L'università di cui parliamo oggi è la Islamic University of Gaza, fondata nel 1978 proprio a Gaza City. E anche qui uno si potrebbe chiedere che senso abbia chiamare un'università con il nome di una religione. Per chi non avesse visto l'immagine che è comparsa adesso, ero sarcastico. Comunque, a parte le battute fuori luogo, all'interno di questa università la Facoltà di Scienze viene fondata nel 1980 e contemporaneamente compare anche il corso di laurea in Fisica che ancora attualmente, almeno fino a qualche settimana fa, era l'unico corso di laurea in Fisica a cui ci si poteva iscrivere in tutta la striscia di Gaza. L'università islamica di Gaza conta circa 20.000 studenti, di cui la maggioranza sono donne. Gli iscritti al corso di laurea in Fisica sono comunque una minoranza, diciamo che la maggior parte studia medicina e ingegneria. Poi purtroppo non sono riuscito a trovare troppe informazioni dettagliate, perché il sito dell'università ormai non funziona più da qualche giorno, da quando è stata bombardata proprio l'università. Di fatto io ho scoperto che l'università islamica di Gaza ha due canali YouTube molto grossi e questo mi ha fatto ulteriormente capire quanto chi abita la striscia di Gaza abbia proprio bisogno di mostrare al mondo che lì c'è una realtà che ha voglia di crescere, che ha voglia di acculturarsi, di costruire università, e non esiste solo quella parte violenta che viene invece evidenziata praticamente ovunque. Ci sono anche numerose video lezioni registrate, diciamo, fino a qualche settimana fa, prima di questi ultimi bombardamenti che hanno colpito pesantemente anche alcuni edifici universitari. In queste video lezioni vediamo spiegazioni che riguardano il calcolo vettoriale, che riguardano la fisica dello stato solido. Chiunque abbia seguito un corso di laurea, un corso di laurea magistrale in materie scientifiche, potrà osservare una scena completamente familiare. Il professore che scrive formule alla lavagna e che spiega usando delle slide. Insomma, una cosa proprio che mi ha fatto empatizzare molto con queste persone e comprendere che all'interno di questo mondo in cui c'è anche violenza, ci sono anche tantissime persone che vogliono semplicemente imparare la fisica, detto in soldoni. Insomma, quello che io trovo strano e sorprendente è che l'idea che ci possono essere dei giovani studenti, come siamo stati noi o come siamo noi, che vanno all'università a seguire le lezioni di fisica, qui vicino, stiamo parlando di un luogo che è raggiungibile in cinque ore di auto dal Cairo e il Cairo è a un paio d'ore d'aereo da qualsiasi città italiana. Possa essere un'idea così fuori dal mondo quando ci troviamo di fronte a situazioni di conflitto come quella che stiamo vivendo in questi giorni, in cui vediamo solo bombardamenti, vediamo solo terroristi, soldati e basta, quando in realtà dobbiamo ricordarci che quella è una minima parte della popolazione e parlo di entrambi i fronti. La maggior parte delle persone vogliono andare avanti con la loro vita. Abbiamo 20.000 studenti che in questo momento non possono più andare a lezioni, non possono più fare esami, hanno la loro carriera accademica completamente interrotta, probabilmente hanno parenti che sono stati uccisi o loro stessi sono stati uccisi, e tutto questo magari mentre seguivano una lezione sul moto in due dimensioni, come potremmo aver fatto anche noi tranquillamente. Probabilmente tutto questo discorso non aggiunge nulla di concreto. Si tratta semplicemente di una sorta di mio modo per esorcizzare in parte quello che vedo quando accendo la TV o quando scorro YouTube così, andando a vedere cosa pubblicano le varie testate giornalistiche, quelle che dovrebbero informarci. Insomma, in conclusione, l'università e la cultura scientifica sono una risorsa inestimabile nella promozione della comprensione della tolleranza e nella prevenzione del fondamentalismo. Investire nell'istruzione superiore e nella diffusione della conoscenza scientifica non solo arricchisce elementi individuali, ma contribuisce anche a costruire una società più aperta, inclusiva e di fatto pacifica. Che che se ne dica? Sempre ricordandoci che stiamo parlando di una cultura diversa, che noi possiamo anche far fatica a comprendere. Per dire, nella lezione in cui si parla di vettori, il professore continua a dire cose del tipo è perché Dio ha creato questo mondo tridimensionale, quindi i vettori nello spazio sono vettori tridimensionali, perché come Dio ha voluto, questi vettori hanno delle componenti X, Y e Z. Insomma, si continua a parlare in questo modo, ma questo semplicemente perché la concezione di religione in questi paesi è sostanzialmente diversa dalla nostra di occidentale. Noi spesso non comprendiamo questo bisogno di tirare in ballo Dio continuamente, ma in realtà basterebbe attonare indietro, come vi ho detto prima, di qualche decina d'anni per capire che anche nelle scuole italiane si faceva esattamente la stessa cosa fino all'altro ieri. Il fatto poi che noi abbiamo superato un po' questo modo di vedere le cose, di vedere la religione in relazione invece agli altri aspetti della vita non significa che non ci possono essere realtà in cui questo superamento non è ancora avvenuto. Però qui entriamo in discorsi complessi e bisognerebbe stare qui a discutere di cose che effettivamente non mi competono, soprattutto su questo canale. Spero con questo video di aver contribuito a mostrarvi una realtà che forse non conoscevate o alla quale forse non avevate pensato fra un titolo di cronaca e l'altro. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ho cercato in tutti i modi di far passare solo l'aspetto umano, lasciando stare le varie tifoserie che invece si trovano praticamente ovunque, soprattutto nelle sezioni commenti. Ricordiamoci che è un periodo di forte emotività e quindi cerchiamo di moderare i toni. Noi ci vediamo, non lo so, forse domani se faccio un tempo a girare un video, altrimenti domenica. Ciao ciao!